Bentornati in una nuova puntata di sai che è qui su Hermes Channel Web TV. Oggi parleremo di kettlebell. Vi dice qualcosa? Secondo te Pino che cos'è? Che ne so, è una parola un po' così. Abbiamo il campione del mondo di kettlebell che ci spiegherà un po' che cos'è, che disciplina è, che storia ha e tutto tutto quanto. Quindi abbiamo un campione del mondo, Giovanni Bianco di Castellana. Però prima di vedere il video iscrivetevi al nostro canale oggi se non l'avete ancora fatto e cliccate mi piace su tutti i video che vi sono piaciuti. E se volete mettere nei commenti un video che voi volete vedere, che vi può interessare, suggeritecelo e noi faremo in modo di tenervi contenti. Non dimenticate poi la campanellina che vi ricorderà ogni volta che metteremo i nuovi video. E se volete sponsorizzare questa trasmissione, contattateci. E adesso vediamoci il video! Ciao a tutti! Oggi siamo nello studio di Hermes Channel Web TV, con il campione del mondo di kettlebell sport, Giovanni Bianco. Giovanni, raccontaci della tua avventura ad essere campione del mondo di kettlebell sport. Ciao a tutti! Questa passione è nata nel 2014, un po' per caso. Ho partecipato a delle gare nazionali, portando sempre dei buoni risultati. Tanto che poi alla fine sono arrivato ad essere stato convocato in nazionale. Nel 2018 è arrivato a questo primo posto nella categoria amatori, sollevando due kettlebell da 24 kg. A maggio del 2019 invece sono arrivato secondo nella categoria superiore, nella massima categoria, sollevando invece due kettlebell da 32 kg. Wow! Ma kettlebell che cos'è? Il kettlebell è un attrezzo che si usa in palestra spesso in un'ottica di fitness, possiamo vederli qui. Questi sono due invece kettlebell da gara, perché appunto il kettlebell sport, come sport a sé stante, codifica tre tipi di movimento, che sono slancio, strappo e slancio completo. Le gare, la gara classica ha di solito una durata di 10 minuti e ne consiste nel sollevare sopra la testa due kettlebell in un determinato periodo di tempo. Giovanni, e le donne ci sono in questo sport? Sì, generalmente il kettlebell è un attrezzo che può essere utilizzato a 360 gradi e spesso anche nell'allenamento a casa, quindi non solo in palestra. Nello sport a sé stante ci sono anche le donne. Le donne ovviamente usano dei pesi leggermente inferiori. Per gli uomini le pezzature vanno dai 16 ai 32 kg nelle gare, mentre le donne vanno dai 12 ai 24 kg. E da che età si può cominciare a fare questo sport? Sì, questo sport si può praticare a qualsiasi età, possono partecipare a delle competizioni anche ragazzini, si può anche cominciare a 50 o 60 anni e fa bene proprio perché è uno sport. Grazie Giovanni. Adesso ci fai vedere i movimenti di kettlebell sport? Ok, va bene. Vi faccio vedere i tre movimenti classici da gara del kettlebell sport, che sono slancio strappo e slancio completo. Faccio vedere prima lo slancio, che si parte da una posizione di rack e si portano i pesi direttamente sopra la testa. Posizione di rack significa posizione di riposo. In questo modo scarico il peso sulle gambe, quindi non ho il peso sulle braccia. E adesso slancio e le porto sopra la testa. E ritorno nel rack. Questo è lo slancio. Nello slancio completo invece c'è un movimento in più, che è un movimento di oscillazione in mezzo alle gambe. Si portano i pesi in rack, si portano su, si riportano in rack, si fanno oscillare in mezzo alle gambe e si riportano su. E si continua. Lo strappo invece è un movimento con un attrezzo, in cui si parte da un'oscillazione in mezzo alle gambe e lo si porta in alto. E lo si fa. Non c'è la fermata in rack. In gara si permette solo un cambio di mano. Quindi E poi quando ci si sa che si ferma. Complimenti! Tutti i sport hanno i suoi benefici. Invece, questa disciplina sportiva che benefici ha? Con il kettlebell sport si allena la forza resistente, quindi la capacità di essere forti, ma prolungata nel tempo. Quindi anche quando le risorse fisiche vengono meno. Dato che le gare durano dieci minuti. Ci sono gare anche da mezz'ora e un'ora. Tra i benefici che si possono ottenere ci può stare un aumento di forza in tutto il corpo, una migliore coordinazione, una maggiore scioltezza, la capacità di rimanere rilassati sotto tensione, una migliore composizione corporea e una maggiore capacità e potenza aerobica. E tutto questo può avere un transfert anche in altri sport. Interessante! Giovanni, ci puoi fare un riassunto della storia di kettlebell? Questo attrezzo ha delle origini molto antiche. Si presume che gli atleti dell'antica Grecia già utilizzassero delle giare o delle forme simili al kettlebell per allenarsi. Poi nel corso della storia le palle di cannone, ad esempio che si utilizzavano per armare i cannoni, a cui venivano attaccate delle maniglie, venivano utilizzate come contrappesi per potersi allenare, ma diciamo che la vera e propria disciplina è stata codificata negli anni Sessanta in Russia per allenare l'esercito sovietico. Ah, è vero! Mi ricordo, mio nonno aveva una cosa, e forse anche mio padre. Ok. Quali sono, come atleta, quali sono i tuoi prossimi obiettivi? Dal 17 al 20 ottobre 2019 sarò in Ucraina per il campionato europeo di kettlebell sport e il 14 dicembre 2019 sarò a Milano per l'ultima gara dell'anno. Fantastico Giovanni, veramente bravissimo, tanti complimenti e tanti in bocca al lupo. Ti ringrazio Valeria e un saluto a tutti quelli che ci stanno guardando. Sai che? Puoi interessare o coinvolgere anche te! Grazie! 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 Grazie!